Giorgio Panariello si gode la sua nuova fiamma nell'estate che volge al termine, ma non per lui. L'attore comico Toscano, informissima, va detto, è stato immortalato da chi a formentare insieme al suo nuovo amore Claudia Maria Cappellini, una pier milanese che Panariello ha conosciuto negli ultimi mesi e con la quale non ha timore di mettersi in mostra. Baci, abbracci, effusioni e massima complicità, tra due che hanno 25 anni di differenza, lui 55, lei 30, che tuttavia sono tutt'altro che evidenti e lampanti. La coppia passeggia sul bagno asciuga, poi si scambia romantici baci e si rilassa al sole delle isole Baleari, frequentatissima da molti vid durante il periodo estivo, nonché è una delle mete estere preferite dagli italiani durante la bella stagione. E Giorgio Panariello, dopo la fine della storia con l'aspirante ballerina d'Alila Frassanito, sembra essersi del tutto ripreso ed ha trovato l'amore tra le braccia di Claudia. Relax che è la premessa di un intenso periodo di lavoro per i prossimi mesi. Il comico Toscano il 5 settembre debutterà infatti all'Arena di Verona con lo spettacolo Lo Show, che lo vede protagonista insieme agli storici amici Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. La triade fiorentina, unita da tempo e frutto di collaborazioni artistiche ma anche di un rapporto molto intenso dal punto di vista personale, ha deciso di girare in arene e teatri italiani per realizzare uno spettacolo dal sicuro successo, vista la portata dei tre. Pieraccioni e Panariello sono certamente tra i comici più quotati a livello nazionale in questo momento, mentre Carlo Conti non ha bisogno di descrizioni, essendo conduttore di Sanremo, di tale e quale show è dei migliori anni, non chiede l'eredità. E negli ultimi mesi, come se non stasse, è stato anche nominato direttore di Radio Rai. Chi se ne frega. Chi se ne frega. Chi se ne frega. Grazie a tutti.